L'oro verde fa sempre più gola, continuano i furti di olive nelle campagne. A Corato, due 39enni sono stati arrestati. I carabinieri di passaggio per le contrade Colonnella, la Mari Grazia, hanno sorpreso i due mentre raccoglievano olive in un fondo di proprietà altrui. Nella circostanza sono stati sequestrati gli attrezzi utilizzati per la raccolta, mentre le olive, circa due quintali, sono state restituite al proprietario. I due, su disposizione della Procura della Repubblica di Trani, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. A San Michele di Bari, invece, padre e figlio, rispettivamente di 71 e 36 anni, sono stati denunciati per gli stessi reati, perché sorpresi dai carabinieri mentre caricavano su un motocarro circa 30 kg di olive appena raccolte dall'interno di un fondo sulla via Vecchiaturi. Anche in questo caso la rifurtiva è stata consegnata al proprietario, mentre il motocarro è stato sequestrato perché l'anziano guidava il veicolo senza aver conseguito l'abilitazione. Sorpresa rubare uva, invece, quattro donne foggiane di etnia Roma arrestate dai carabinieri della stazione di Turi. Nel corso dei controlli lungo la strada provinciale per Castellana Grotta, i militari hanno sorpreso le donne, tre sorelle di un'amica, rispettivamente di 56, 50, 47 e 44 anni, mentre rubavano circa 50 kg di uva da tavola di qualità Italia, già riposte nel bagagliaio di una Ford Focus. Nell'autoveicolo, tra l'altro privo di copertura assicurativa e per questo sottoposto a fermo amministrativo, sono stati trovati due coltelli da cucina utilizzati per tagliare i grappoli. L'accusa è di furto aggravato in concorso. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bari, le quattro donne sono state sottoposte agli arresti domiciliari. La rifurtiva, invece, è stata restituita a legittimo proprietario.